Perché Cateclima è una PMI innovativa che opera nella consulenza ambientale e nei servizi energetici dal 2009, occupandoci di transizione energetica e supporto all'economia circolare ben prima che entrasse nel cuore del dibattito nazionale. Siamo fornitori affidabili di enti di ricerca, università piccole, medie e grandi imprese in tutta Italia. Dal 2020 ci siamo aperti anche ai privati su un mercato più locale. Io sono Fabio Romani, sono il socio fondatore e presidente del CDA di Cateclima e coordino 13 dipendenti e un dottorato di ricerca. In questi anni siamo cresciuti con le nostre forze, ma oggi ci apriamo al mercato per accelerare lo sviluppo di sogni e progetti rimasti nel cassetto, perché l'emergenza climatica richiede azioni veloci e noi vogliamo contribuire e al tempo stesso cogliere le opportunità che la transizione energetica offre. Il progetto K3 è una risposta al tempo stesso globale e locale che integra tre pilastri. Il primo è il monitoraggio energetico evoluto della nostra energia in cloud by Cateclima, perché mai come oggi è necessario avere e gestire misure affidabili in tempo quasi reale, comunicarle bene all'alta direzione per supportare azioni di efficienza energetica. K-Community è il secondo pilastro con cui vogliamo consolidare il nostro settore fotovoltaico e del geoscambio per cogliere tutte le opportunità legate alle comunità energetiche che animeranno lo sviluppo delle rinnovabili in Italia da qui al 2030. K-Energy Store è il terzo pilastro, che è il luogo fisico in cui offrire efficienza vera e indipendente a cittadini e PMI dell'Alto Lazio. K3 non si sostituisce alla nostra presenza sul territorio nazionale, alla consulenza strategica e direzionale, alla nostra leadership in materia di CO2, alle diagnosi energetiche di PMI e multinazionali e quant'altro, ma si integra in maniera sinergica. Insomma, cerchiamo energie nuove per servire più e meglio i nostri clienti nella sfida della transizione energetica. Abbiamo dimostrato finora che tutto ciò non solo porta benefici alla comunità e all'ambiente, ma anche ai soci. Oggi pochi, domani speriamo molti di più. Come ho imparato in montagna, se è vero che da soli si va spesso più veloci, insieme si arriva più lontano.